Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, questo è l'Evangelo della Grazia, che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo della Grazia, perché l'uomo credendo in esso riceve grazia da Dio, viene salvato dai suoi peccati per grazia, viene giustificato per grazia, ottiene la remissione dei peccati per grazia, ed ottiene la vita eterna per grazia. Ecco perché è chiamato l'Evangelo della Grazia, ed è l'Evangelo che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha comandato agli undici apostoli, prima di essere assunto in cielo, di predicare ad ogni creatura. Infatti disse loro andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Quindi voi è giusto che sentiate annunziare questo Evangelo, perché è la buona novella relativa al regno di Dio. La scrittura dice che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza ad ogni credente del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Dunque credendo nell'Evangelo, l'uomo, sia esso giudeo o gentile, viene salvato, affrancato dal peccato che lo domina, perché l'uomo senza Dio è schiavo del peccato, in quanto chi commette il peccato è schiavo del peccato. Non solo è schiavo del peccato, ma è anche un nemico di Dio, sotto la condanna di Dio. Ma quando crede nell'Evangelo, l'uomo viene giustificato, ottiene la giustificazione che dà vita. Viene reso giusto. Ecco perché è scritto che il giusto vivrà per fede. Quindi se è per grazia, se la salvezza è per grazia, riflettete, se la salvezza è per grazia e la remissione dei peccati è per grazia, la giustificazione è per grazia. È evidente che non è per opere. Se è per grazia, non è per opere. Se fosse per opere non sarebbe per grazia, ma è per grazia. E quindi l'Evangelo proprio vi comunica, mediante l'Evangelo Dio vi comunica appunto la sua grazia. La sua grazia salutare per tutti gli uomini, ve la fa conoscere. Comprendete che cosa significa? Quindi voi, avendo sentito parlare dell'Evangelo della grazia, avete sentito parlare della sua grazia, cioè del fatto che Dio fa grazia a coloro che credono nell'Evangelo. Ma badate bene, perché c'è anche un'altra cosa che vi devo annunziare. Vi devo annunziare anche la condanna che aspetta tutti coloro che rifiuteranno di credere nell'Evangelo. Perché è scritto che chi non avrà creduto sarà condannato. Sì, sarà condannato. Perché? Perché rimane chi non avrà creduto, chi rifiuta di credere nell'Evangelo, rimane uno schiavo del peccato, un peccatore agli occhi di Dio. E quindi non importa quanto si impegnerà a fare opere giuste, meritorie, egli rimarrà un peccatore, perché la giustizia dell'uomo è come un abito sporco davanti a Dio. E quindi l'uomo che rifiuta di credere nell'Evangelo, rifiuta la giustizia di Dio, appunto che è rivelata nell'Evangelo. E quindi preferisce stabilire la sua propria giustizia, anziché ricevere per grazia la giustizia di Dio. E rifiutando di credere nell'Evangelo, l'uomo fa Dio bugiato. Cioè non crede alla testimonianza che Dio ha reso circa il suo figlio. E quindi? E quindi morirà l'uomo che rifiuta di credere nell'Evangelo, morirà nei suoi peccati. E dove andrà? Quando ospirerà, l'anima sua andrà all'inferno. Sì, all'inferno. Un luogo di tormento dove c'è il fuoco e dove sarà tormentato. Capite? In mezzo al fuoco. Un fuoco reale. Quindi è mio dovere avvertirvi anche della condanna che aspetta coloro che rifiuteranno di credere nell'Evangelo della grazia. Quindi io vi esorto a ravvedervi e a credere nell'Evangelo. Affinché il Signore abbia veramente misericordia di voi. Affinché il Signore vi salvi, vi perdoni, vi giustifichi. Affinché veramente possiate scampare alle fiamme dell'inferno dove siete diretti. Perché voi siete sulla via della perdizione. Io vi ho avvertiti. Vi ho avvertiti di quello che vi succederà se rifiuterete di credere nell'Evangelo. Guardate, l'Evangelo è l'unico messaggio credendo nel quale si viene salvati. L'unico. L'unico messaggio. L'unico messaggio. Perché? Perché è l'Evangelo di Cristo Gesù, il Salvatore del mondo. E in nessun altro è la salvezza, infatti. Perché non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quindi ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Che ha orecchie da udire, Oda.